L'amore, l'amore in italiano è le due facce dell'amore, c'è l'amore per possedere e l'amore per dare. Io sono passato da quello per possedere a quello per dare, tutti e due danno soddisfazioni, il primo può dare molti più piaceri perché quando viene a mancare si sente di perdere qualcosa, il secondo invece no, è più garantito. C'è qualcosa che fa vibrare, c'è qualcosa che ti fa vibrare, tu hai il coup de fou per una femme, o tu l'as pas, e tu vas l'aimer un po' e poi d'un coup tu vas vivere con e poi il va grandir, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare, tu vas devoir le partagare. L'amore non significa solo di prendere, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare. L'amore non significa solo di prendere, dobbiamo, di prendere per il amore per l'amore, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare, il va cambiare più. più di loro. Anche con la mia madre. Anche ora. Quando ero giovane, l'amore, era fare l'amore quando erano giovane. Ma ora, non, non è così. È un altro cosa. L'amore. Tu mi dici come s'exprime l'amore. Pec'è essere gentilità, una piccola risposta, una piccola flepolisca. Il amore rappresenta molte cose, quando uno lo dimostra, ti dà un carino, o ti dà bene, per me questo è il amore, a volte che una persona si preoccupa per la salute, per il benestore di una persona, per me quasi, la verità a tutti i miei figli non li mimo, ma non lo posso dimostrare molto, perché non ho avuto questa vita che mi hanno amato, mi hanno amato, perché come ho detto, mia madre è morta, mio padre è fuori con un'altra signora, quindi non, per me il amore rappresenta molto, ma non lo posso dimostrare, non lo posso, è che non mi sale. L'amore, per me, non c'è un simple movimento di cuore che si incline verso una persona particolare, non c'è questo hasard che mi ha amato a nemmeno qu'una sola persona, ma l'agrazione dei fatti. E' come questo, le cose hanno cominciato, con la mia tenda esposa, in un settembre anno di G.M. 1995, al detour di un vero in un bar, e sono frappata per la charla di una madre, e le diso chiaramente, madame, io sono amore di voi, io voglio che voi soviate la mia esposa. Repose, tutto a fatto spontanea, ecoutez, se voi mi piace, non ho avuto a prendere la decisione. E le cose sono partite, fino ad oggi, siamo a la 11e anni. E lo che io mi piace, è la verità. Quando mi delle corne, mi è sto dire la verità, è così che mi puoi redresser, perché sono un ganso di uomo, che ha fatto dei fatti e di qualità. Non dobbiamo solo attendere di lei, chèona che ti amo, non chèona, non, è tutto ciò che sappiamo. Ecco ma guarda, questo uomo è l'uomo, è il era il leader, un leader che commetate una erreoca come schia? E mi resta in questione, io ho detto, è vero, è vero. ma attrazione. L'idea è di avere un amore. L'amore con la propria compagna è la passione. Quello che sempre mi porta alla differenza è la passione. Se non c'è la passione, non riesco a innamorarmi. La passione è immediata, istantanea. Dopodiché si brucia nel giro di 20, 30, 50 anni. Dipende anche dal rapporto, da quanto dà la tua partner. Da quanto ti intriga, da quanto ti coinvolge, da quanto si nega e da quanto ti stimola. Però sicuramente per me il rapporto amore e passione è un tutt'uno. Sì. Penso che tu puoi restare in amore per la tua vita per permettere la persona che ti piace di essere proprio come loro. Asse è un scenario. Non c'è un attore che solle. È un'attore di tutto. Se vuoi diventare tolto un amore. Per quanto ti ringraziamo, ci ringraziamo. Ci ringraziamo. Ci ringraziamo. E all'ist everybody! E non c'è say che il amore e si consuma. E non c'è il amore. E non c'è l'amore per la mia vita. Sì. C'è una palla di amore. il mio amore. Tu as visto che il tuo amore o cambiare la strategia. Perché per guardare il amore, perché c'è sempre il futuro l'amore, e come tu le dite, bisogna cambiare la strategia. Il tuo stagione di oggi. E in ogni caso, devi cambiare, devi cambiare, devi fare tutto per quinte ti, ma ma che non lo so. Ma, anche se, tu resti sempre da. No, 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 no. No, 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 no. We've been married for 35 years and that's a journey and that's up and down and I think it's often been very hard for her to put up with me. We didn't have children for 12 years or something. We were really still getting to know each other. But I think it's got stronger and stronger and I think the best thing you can say about a partner that you've been with for a long time is that you're friends and that's what we are. And I am sometimes not a great husband but one thing I always try and do is make her laugh. I know if I can make Jean laugh then that's a good thing. The recipes that I have for love in order to cause it to grow and continue to thrive is to look at it with fresh eyes regularly. And to not let the romance slip. To remember the things that were important when you first fell in love and continue to practice those things. And look at your loved one with love in your heart and in your eyes and do things for them that they totally unexpected and surprise them. Surprise them with special notes. I love to write little special love notes and put them in my husband's lunch. Not regularly because then it's not a surprise. Or spread rose petals. Just I think there are so many ways that you can ignite a love. And my husband is very quiet and introverted so I love to sing to him. And he's almost embarrassed when I sing to him. It's so cute. But that's one of the things I love to do too. And that makes me smile because I know I can see him being wrapped in my love. Because my husband's ausp los or aqueles are okay to wear off with his family benefits. As a son, I remember the love. You said that if I just lost the love. You and her children get away from the есть. Even if I was daughter, it's a living. And I would want to be礼 enfin and let's see what she left. You'll want to do. And once a son is released, quit the love. Quindi il mio amore è un po' di più 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 di più. Il mio cuore è diverso che non si può fare la scuola, ma non si può fare la scuola. L'amore è cercare di non svegliarlo quando mi alzo. L'amore, oltre il sesso, capisce che ci deve essere. Ma non è solo quello, sono tante altre cose, appunto, di vedere che la persona stia bene, di salute, eccetera. E il sesso è importantissimo. Non è un'amore, non è un'amore, non è un'amore. È un'amore e un'amore in un'amore, quindi, non è un'amore. Non è un'amore di nemmeno, ma non è in un'amore. Io sono in un'amore, ma è in un'amore. e io non voglio far più piuttosto di me che mi piuttosto. Se io mi piuttosto, magari si le piuttosto di me, magari si lo piuttosto di me, ma non spendo nessun lavoro in cui mi piuttosto di me. Non è importante per me. Se mi piuttosto, che ci sono il risultato di chi mi, e se è ok. Se non, che sono loro opinioni e sono loro intitoli. Ora non, non no, non non sono probabilmente una persona di affezionale. Ma mi sono chiesto per 42 anni, quindi... anche con i miei parenti. C'è vero che ho l'impressione che ciò che siostrappone come preuva di amore sono cose maturie. Quindi, io passi molto per lo materiale, anche se non è proprio quello che mi piacerebbe. Non mi piacerebbe essere stato perciato come preuva di amore. Si c'era l'impressione che siostrappone, come siostrappone, che siostrappone e che siostrappone. Perché siostrappone, che siostrappone, che siostrappone. Quindi, io passi parte del materiale, ma io vorrei apportare delle cose, ma non materiale, perché è quello che mi ha mangiato. Mi sento molto piaciuta, mi sento molto piaciuta, che siostrappone. Perché, anche quando sono i miei, quando sono i miei, quando sono i miei, che sono i miei, sono stato so sicko, un giorno fa, che sono stato convinto per un anno che sono i miei, e ho sharedo con molti persone. E, all'inizio durante il tempo, la città in me era non era qui per fare me. Ma era la mia famiglia, i miei, i miei, sono i miei. Ma aveva così fiducia in me, che io mi sento, che 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 mi sento, ma appena abbastanza per me. E, e sono ogni volta che mi sento, che mi sento過來 meto. смотритестCCcoільmente, e sì. E ci sono state r fall meshedano, e ci sono tutti questi quelli che v gettino per me, bre a me distralle. per amore direi la mia vita perchè sono pensato che per cui le persona è molto difficile come persona non è un modo uguale io non solo per cui non è così facile bisogna una scuola molto più长 E poi qui potete parlare una persona che non è così facile Non mi piaceva fare il mio amore. Se io non mi piaceva il mio amore, non mi piaceva il mio amore. Per alcuni, io mi amore molto più amore. Alcune persone non mi piaceva, alcune persone non mi piaceva. Se non è un'occhiata, non mi piaceva con il personale. Io solo darei l'amore, se la l'amore è reciprocato. Se non è reciprocato, tu non mi rendi zero. Non c'è nessuno, non c'è nessuno e non so se ne vautatutto quindi potete anche non so se ne vautatutto ma volere può bezzurare può impedire sono, soprattutto per per la gente può impedire da svare, può mettere una pressione non so se ne vautatutto se ho sentite di donatutto non so niente ma in realtà insensibile ma non Supreme non è sempre non ho mai avuto il amore ...are you kidding me? No, I never, I love my, come over here y'all, stand behind me, come on. I don't know, come on Veronica, y'all stand behind me. I'm going to let you see if I get enough love. Come here, Angel. This is Erica giving me some of her version of love. We kiss each other every single morning and every night. My daughters are so big, but they will get in that car tonight and they will kiss me. Good evening mommy, good evening. e il mio figlio, anche se si siede nel toile pot si chiede a la porta e si chiede a casa 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 e si non si chiede a casa senza chiedere quindi c'è molto amore in casa e si chiede a casa e si chiede a casa e se 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 chiede a casa Alguna vez hemos tenido periodos en que hemos estado separados, pero aun para separarnos lo hemos hecho hablando. Io credo che in la medida in cui uno non se lastima al separarsi quando hai una ruptura, hai sempre la possibilità di una reconciliazione. Per iso è importante cuidare lo che uno dice. Quando uno, a pesar di essere dolita, a pesar di sofrir per alcune attitudini, si uno è capace di ascoltare le ragioni del altro, si bien non si può justificare, però uno può explicare le circunstanci che conduce a una accion che a veces nos daña. Quindi io credo che questo ha fatto che io vivi con mia parella più di 20 anni già. E già lo dico, non sono felice perché, aun per fare un parèntesi in nostri nostri vidi, nel momento in cui lui decidiuo salire da mia casa, la porta non si è fermata. E lui è tornato. Wow, non è vero che... non è vero che ci può calma. Ma cosa faccia, ma è ciò che deve fare. Ma ho ho avuto una grande perioda di disamore, ovviamente siamo in un mixo, con tutto ciò che vuole dire di construction. Non ho mai venuto a l'idea di separare, di divorciare, perché, per alcuni di circostanti, mi ritorni amorevole. Non mi ritorni amorevole molte volte. Ma c'è vero che c'è stata una distanza importante in il couple. Io credo che abbiamo accettato le cose come le si presentano e abbiamo gestionato. Con sempre di questionnere. Non, non c'è la recette. Surtout, non c'è la recette. Non c'è la recette. L'autre è voluto e change. Tu non ti percepis. Tu credi che sia sempre il stesso. Il non è il stesso. E tu ti percepis a dei grandi carrefors. Tu hai dei carrefors come la vita. Tu perds un bambino o qualcuno di progetto. E tu guardi come l'autre ha cambiato. L'autre, celle che tu croyais indestructibile, in tua vita, in tuo schéma, tu tombi amorevole a qualcuno di qualcuno. E come ti vivi con questo? C'è come la recette di carrefors. che non devi perdere. Se tu le nia, e per me, il nia è fermo la porta, te rifugio in tuo schagrino, ammettere il mondo, e dicendo come ho stato trahi. C'è la tentazione. E io l'ho fatto, come tutti. come tutto il mondo. C'è un po' idioto di dire questo. Non come tutto il mondo, ma io l'ho fatto come... C'è la voce la più facile. ma io credo che ho avuto la chance, e per me amici, e per la persona amata, e per l'altra persona, diciamo, come così, e per la persona, di molto veloce, non poter trombare su miei piedi, e cercare di non far riflettere, perché in questo caso, non è la riflessione che conta, e di sentire le cose nuovo, e di vivere altamente. Se è importante, avere la libertà di andare a scendere, sì, credo. Io vorrei pensare che i miei figli avessi a scendere, ma non le hanno fatto. Per quanto riguarda, come si chiama, come si chiama, come si chiama schablon. Non è bene all'interno. Non è vero per il suo partner e per il loro stesso, infatti. Non dovrò parlare e cercare le risposte per rispondere. Non dovrebbe essere molto più facile. Ma ovviamente bisogna trovare il canale per poter dire che non è una vita più lunga, ma bisogna trovare un altro modo di vivere, un altro modo di comunicare, per poter capire me stesso come un uomo. E' anche per la parte dell'altra parte. I know, it's very hard, it's very hard to keep everything together in the home and not want divorce, I'd say. No, I think there's no woman alive that didn't want to run away a million times, but you made a vow when you got married, till death do us part. So, you just fight away and struggle. And my daughter, I'll be 50 years married next year, and my daughter said, 50 years next year? Yes, I said, that was a survival course. But it's hard, and marriage is very, 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 very hard. It is. And I mean, it's very hard to stay together, like, you know, but, well, if you must, you must. And you know what, you have good times, you have good times, and then you can have bad times. But then, if you went away when you had the bad times, you'd miss out on all the good times. The love between both, you have to build the life together. It's not an easy thing. You need to fight for it. No, I don't feel as though I give enough love to people around me. I am. I'm so, I'm so busy. By doing something else, Ouch dogs havechos one more time but doesn't seem like, or that it's a life ahead of me, you know that a good time. Both are empresa, well, I'm so busy. I feel well, my love with my husband, so I want you to work with them and introduce them and怎麼了. I'll make love, kiss you, we'll stay together, 라고 MAN. And there, they're always with you. You're one of those who celebrate the Wild Food Networks Grazie.